Benvenuti a questa nuova edizione del Tg Oristanese, apriamo parlando di politica perché la regione Sardegna si sta adoperando per far sì che i servizi erogati siano sempre più vicini ai cittadini. Vediamo il nostro servizio. Riforma degli enti locali e nuove province, istituzione delle aziende sanitarie locali, distretti scolastici, tutto con l'obiettivo di decentrare e portare i servizi, le strutture e il potere nei territori vicino ai cittadini. È quello che spera la Giunta regionale guidata da Cristian Solinas e la multiforme e corposa maggioranza che lo sostiene, uscita vincitrice dalle ultime elezioni. Percorsi di non facile attuazione, ad iniziare dal sistema degli enti locali e dalla ricostituzione dell'impalcatura delle province, prime annullate dall'incerto referendum regionale del 2012, poi riammesse nel loro ruolo dal pronunciamento referendario nazionale del 2016, che di fatto ne ha ribadito la statualità. Ma in Sardegna le cose sono rimaste ferme a distanza di anni e non poche tergiversazione, si cerca di dare una nuova impostazione, badando ai confini territoriali, per evitare sussulti che portino a creare condizioni politiche diverse dalla compagine che governa la Regione. Per le province si tratta ora di superare il diniego del Governo centrale, che ha dichiarato la proposta della Regione incostituzionale, ma l'assessore agli enti locali Quirico Sanna mostra ottimismo ed è convinto che il diniego verrà superato. Sulle nuove ASL, che territorialmente dovrebbero ricalcare le aree delle disciolte province, è accesa la polemica, con accuse che creerebbero solo nuove poltrone. Ma il disegno di legge approvato dalla Giunta è di tutt'altro avviso, con l'ipotesi di creare otto aziende sanitarie locali, con due aziende ospedaliere universitari, un'azienda chiamata Ares per gestire acquisti e personale, ed infine Areus, l'azienda per le emergenze e le urgenze. E proseguiamo ancora parlando di politica. In particolare la Giunta regionale da quest'anno ha voluto ridurre la burocrazia per facilitare il programma Ritornare a Casa. Vediamo di cosa si tratta. Con l'approvazione delle nuove linee di indirizzo del programma Ritornare a Casa, la Giunta regionale semplifica le procedure riducendo la burocrazia che grava sulle famiglie. Nell'arco del 2019 sono stati rinnovati oltre 3.000 progetti nell'ambito del programma Ritornare a Casa, per un impegno finanziario di circa 50 milioni di euro. Tra le modifiche introdotte nelle linee di indirizzo 2020, la più importante riguarda la modalità di revisione dei progetti, che sarà richiesta ogni tre anni, prevedendo in alcuni casi, precisa l'assessore dell'igiene, della sanità e dell'assistenza sociale Mario Niedu, la sola presentazione di un certificato medico. In passato la revisione era richiesta ogni anno, una burocrazia eccessiva e un peso per i beneficiari e le famiglie, soprattutto se si considera che le persone inserite nel programma Ritornare a Casa si trovano in condizioni irreversibili già accertate. Il raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nei singoli progetti personalizzati e l'assistenza dovranno essere verificati dai servizi sociali dei comuni in cui risiedono i beneficiari. Le risorse per la gestione del programma Ritornare a Casa saranno assegnate direttamente ai comuni. Nel caso di Oristano sarà il plus di competenza a deciderne la misura. E proseguiamo parlando ancora di politica perché la Regione Sardegna ha pubblicato l'avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del fondo microcredito. Il documento è stato redato a seguito della delibera dotata dalla Giunta regionale che riguarda la riprogrammazione degli strumenti finanziari FISE. Il FSE, chiedo scusa, il fondo permetterà di finanziare progetti compresi tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 35.000 euro in relazione alle spese ammissibili. Voltiamo pagina. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese è beneficiario di uno stanziamento di 860.000 euro per importanti interventi. Vediamo di quali interventi si tratta nel nostro servizio. 860.000 euro è quanto la Giunta regionale ha stanziato con una delibera del 23 dicembre scorso per il Consorzio di Bonifica dell'Oristano per realizzare interventi di manutenzione straordinaria dei canali di colo a diretto servizio della produzione agricola. Un esito conquistato grazie ad un emendamento del Consigliere Emanuele Cera, sostenuto dall'Assessore regionale Murgia, dove sono state stanziate in assestamento di bilancio le risorse per i consorsi della Sardegna. Si tratta di un risultato che denota l'attenzione della regione nei confronti delle attività svolte dai consorsi. Ora i nostri uffici lavoreranno per rendicontare le spese sostenute, ha dichiarato soddisfatto il commissario straordinario Cristiano Carrus. L'esecutivo ha inoltre concesso un contributo di 450.000 euro per la copertura dei maggiori doveri del personale. Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto anche perché queste risorse potranno permettere, come accaduto lo scorso anno, una riduzione dei tributi rigui alla quale inoltre andrà aggiungersi un ulteriore percentuale di riduzione grazie al servizio di tele-rilevamento attivato lo scorso mese di settembre, ha concluso Carrus. Ed ora ci spostiamo a Cabras per un fatto di cronaca. Dei vandali hanno preso di mira la postazione del book sharing creato a Cabras dall'associazione culturale Liberiamoci. Vediamo. La scorsa notte a Cabras la postazione del book sharing allestita dall'associazione culturale Liberiamoci è stata letteralmente svaliggiata. Creata dalle giovani donne che da ormai due anni si impegnano nella realizzazione di eventi culturali nella cittadina lagunare, quella del book sharing era la prima postazione del paese. Era stata battezzata lo scorso gennaio dalla scrittrice cagliaritana Claudia Zedda in occasione del primo compleanno di Libriamoci e la sedia azzurra per lo scambio di libri posizionata nella piazza Zuni aveva riscosso un grande successo. Ma con il sopraggiungere del nuovo anno è stata saccheggiata e ciò che più dispiace è che a farlo non è stato un amante della lettura, bensì qualcuno che ha distrutto i volumi lasciandoli poi per la strada dopo aver tentato di bruciarli. Siamo amareggiate ma non ci arrendiamo, dichiarano Roberta Meli, Paola Secci e Roberta Lippi, fondatrici dell'associazione, insieme ad Alessandra Pinna, unitasi di recente. Oltre ad essere venuto meno il vero significato dello scambio, qui siamo davanti a un gesto che evidenzia il mancato senso civico degli autori. Sicure che in tanti accoglieranno il loro appello, le quattro donne attendono fiduciose che la postazione venga riallestita e che possa continuare a essere un porto sicuro per lo scambio dei libri per gli amanti della lettura. Il mese scorso a Cavras a venire distrutti erano stati i presepi creati dai bambini negli angoli delle strade. Parliamo di Carnevale o meglio di Sartiglia per quanto riguarda Oristano perché mancano solo 50 giorni alla prossima edizione della Giostra Equestre che caratterizza la città di Oristano nel periodo del Carnevale. Le polemiche dell'ultimo anno per ora sembrano essere appianate. Vediamo. 50 giorni alla data di svolgimento della Sartiglia di Oristano con l'organizzazione in movimento nonostante i problemi irrisolti. Ora l'attenzione è concentrata sulla preparazione di cavalli e cavalieri in modo che i binomi consolidino quel rapporto indispensabile per una migliore condotta nelle prove della corsa alla stella e nelle successive pariglie. In entrambi casi si tratta di prove di abilità che esaltano i protagonisti e infiammano le discussioni di queste settimane riguardanti la qualità degli esemplari a disposizione, il loro passato ma anche il valore e la bravura di quanti dovranno stare in sella. Sopite al momento le polemiche sulle scuderie, i cavalieri hanno trovato anche soluzioni provvisorie dove ospitare i cavalli e quindi ricreare quel clima che precede il torneo. Si susseguono anche le prove dei tamburini e dei trombettieri, contorno fondamentale per animare la due giorni della corsa, mentre i gremi si muovono secondo collaudati codici di comportamento. Le novità stanno nel nuovo ruolo della Fondazione Oristano, impegnata proprio in questi giorni a comporre i suoi organi operativi sotto la stretta vigilanza dell'amministrazione comunale e del sindaco Andrea Luzzo. Anche la proloco di Oristano ha definito per tempo tutti gli adempimenti per lo svolgimento della sartigliedda del lunedì, riservata ai giovani cavalieri, con la nomina del capocorsa, dei secondi, con due giovanissime amazzoni. E domani il via anche ad Oristano con i saldi invernali. Sentiamo i consigli che dà per l'occasione l'AdiConsum. Domani 4 gennaio anche a Oristano si partirà ufficialmente con i saldi. Fondamentale per evitare di cadere nell'inganno del finto sconto, tenere a mente le regole riproposte D'AdiConsum Sardegna, che ha pubblicato sul suo sito un vero e proprio vademecum. Intanto c'è da dire che ormai i consumatori, dopo tutti questi anni, hanno imparato a gestire questo periodo e a capire quali sono i loro diritti e a rivendicarli. Lo dimostrano le tante segnalazioni che ogni anno abbiamo, insomma, sono molto molto attenti. Però c'è qualcosa da ancora registrare, ancora da informare. Per esempio, il mito da sfatare, una credenza da sfatare è il fatto che qualcuno ancora crede che uno dei diritti sia quello del ripensamento, cioè di poter sostituire oppure restituire il bene acquistato. Non è così. In sede fissa, nei negozi in sede fissa, non vi è questo diritto per i consumatori. Il diritto di ripensamento, come voi sapete, è soltanto per gli acquisti fuori dai locali commerciali. Invece uno dei diritti fondamentali in questo periodo, come nel resto del periodo dell'anno, è quello del difetto di conformità, che non è soltanto il difetto del vizio del bene, non è solo quello. Il difetto di conformità è un concetto molto più ampio. Bisogna conservare lo scontrino e siccome in carta chimica vi consigliamo di fargli una fotocopia perché deve durare due anni e due mesi per la vostra garanzia. Presentando lo scontrino, se c'è un difetto di conformità, voi avete questi diritti. Un'attenzione particolare anche all'esposizione del prezzo. Se per caso vedete che in ogni capo di vestiario non c'è il prezzo indicato, il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato, difidati di questi negozi. Attenti anche a chi vende merce troppo vecchia, vuol dire che sono fondi di magazzino. Attenti a chi ha invece troppa merce, troppo fornito, vuol dire che sono stock acquistati apposta per i saldi. L'ultimo consiglio, se vi capita qualcosa di strano, segnalatecelo e segnalatelo anche alla Polizia Comunale perché sono loro quelli competenti per erogare le sanzioni. I commercianti dal canto loro non si aspettano il boom. Dopo il Black Friday e le scontistiche fatte a dicembre dalle grandi aziende di abbigliamento, la stagione dei saldi non ha più molto senso, dicono alcuni, altri invece si dicono più ottimisti. Poco entusiasmo invece tra i consumatori, che quando acquisteranno staranno bene attenti a rispettare il budget prefissato. Vedo che i prezzi non sono fassati come fanno molti negozianti perché lo fanno, però anche loro devono guadagnare. Anche un budget da rispettare? Soprattutto, sì. Posso chiedervi se avete intenzione di fare qualche acquisto durante i saldi? No. Niente? No. Ha già comprato magari per Natale? No, non avevo bisogno di niente e quindi non ho comprato niente. No, assolutamente no. Non si sa ancora, bisogna vedere questi prima. Lunedì 6 gennaio alle 18.30 il coro Popcore si esibirà nella chiesa dello Spirito Santo in via Sant'Antonio ad Oristano per il concerto dell'Epifania. Sarà diretto da Sara Careddu, al piano ci sarà Alessandra Medde e alle percussioni Giorgio Usai. Il repertorio comprenderà brani prevalentemente natalizi. L'ingresso è gratuito. Questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con informazioni. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione del Tg Oristanese STV News. Lo scorso weekend ad Asuni, per l'anteprima del Terre di Confine Film Festival 2019-2020, la prima visione regionale del cortometraggio Destino di Bonifacio Angius ha mostrato un lavoro capace di suscitare emozioni profonde in un pubblico davvero numeroso che non ha risparmiato applausi all'interno della sala convegni del MEA. Dopo la proiezione, gli spettatori si sono trattenuti a lungo a dialogare con il regista sassarese, al quale hanno rivolto numerose domande e attestazioni di stima. Per l'opera di Angius, realizzata in collaborazione con le maestranze provenienti dal corso di cinematografia tenuto all'Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari, arriva dunque una nuova conferma dopo il successo alla mostra del cinema di Venezia, non solo per le qualità ormai conclamate di regista, ma in particolare per quelle di attore, al suo debutto in questo caso nel ruolo di protagonista. A Venezia mi pare che il film sia stato accolto, seppur un film breve, mi pare che sia stato accolto molto bene, nel senso che ne hanno parlato quasi più di un lungo, quindi mi pare che sia stato accolto bene. Non mi sono tanto preoccupato di essere il protagonista del film, mi sono più preoccupato di essere me stesso, di essere naturale, di non pensare troppo a quello che stavo facendo, ma di renderlo semplicemente vero in quel momento. Affare da padroni, temi come la superstizione, l'angoscia esistenziale e il nichilismo. Oltre ai sindaci, Gionata Pezza di Asuni e Mario Tendas di Solarussa, primi cittadini delle due sedi storiche della Kermess, a introdurre la serata è stato l'intervento di Sandro Sarai, presidente di Sudisterru Onlus, l'associazione che dal 2005 organizza l'evento ormai divenuto tra i più importanti in Italia per quanto riguarda il confronto e l'incontro tra realtà cinematografiche internazionali apparentemente lontane. Grazie a tutti!